Guai a considerarlo un match dai connotati di testa coda. Regina Lecce, in programma questa sera alle 19.30 allo Stadio Granillo di Reggio Calabria, non può essere etichettata. Questo almeno è il pensiero del tecnico giallorosso Dino Pagliari, che a poche ore dalla gara di campionato invita i suoi a non guardare i valori espressi dall'attuale classifica. Reduce da una sconfitta rotonda e pesante nel derby dello stretto con il Messina, sarà una regina arrabbiata e in cerca di riscatto, per usare le parole del tecnico amaranto Alberti. Tra i calabresi non ci sarà l'ex Di Michele, non convocato per scelta tecnica. Motivi contrapposti, ma validissimi per le due formazioni nel cercare la vittoria. Il Lecce vuole dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi che hanno permesso di agganciare il quarto posto in classifica. Regina Fanalino di coda del Girone cerca di uscire dalle sabbie mobili della zona rossa, prima che sia troppo tardi. E un Lecce in salute, quello che stasera lancerà l'assalto al Granillo. Assenti Miccoli, Dumbia per infortunio e Mannini per squalifica, rientrano Sacilotto e Lopez. Al tecnico il compito di sciogliere le riserve sulla formazione che non dovrebbe allontanarsi da quella che domenica scorsa ha superato il Matera in casa. Caglioni tra i pali, Abruzzese e Vinetò supportati da Di Chiara e Diniz sulle corsie esterne formeranno la diga difensiva. A centrocampo dovrebbero agire Salvi, Papini e Filippe Gomez con l'alternativa Sacilotto in rampa di lancio. In avanti il tridente sarà affidato con ogni probabilità a Lepore, Herrera e Moscardelli. Il match richiama il Lecce ad una prova di carattere su un campo non facile, anche per un contesto ambientale abbastanza caldo. Pagliari ha chiesto alla squadra di scendere sul rettangolo verde con lo stesso atteggiamento e personalità, dimostrati con il Matera. A dirigere il match è stato disegnato il signor Antonio Di Martino, che ha già diretto i giallorossi in altre due occasioni in passato. Sarà lui a decretare il via alle ostilità alle 19.30. Al di là dei numeri dettati dal modulo, importante è l'atteggiamento collettivo, quel carattere che definisce l'identità di una squadra a concetto sul quale il tecnico del Lecce ritorna. Intanto l'Unione Sportiva Lecce comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erminio Rullo Al Messina e quello del calciatore Nicolò Donida alla Paganese Calcio.